Con piacere e orgoglio ho preso parte alla manifestazione organizzata dal Parco dell'Appennino e dalla Scuola di Grande Cucina Alma a Fosdinovo, dove sono stati premiati diversi produttori dell'area Unesco e anche diversi ristoratori. Tra questi il Bacher, che è un noto ristorante di Berceto, è stato premiato per la sua propensione a usare i prodotti tipici e i prodotti a chilometro zero. È stato un bel riconoscimento, credo che siano queste le cose che bisognerà fare sempre di più in futuro, cioè usare i nostri prodotti e mantenere le nostre tradizioni, cercare di salvaguardare il nostro cibo, da tutto il cibo e spazzatura che sta arrivando sui mercati e che purtroppo arriverà ancora di più se l'Unione Europea, come pare, farà l'accordo con gli Stati Uniti. Un accordo che dannaggerà tutta la nostra produzione tipica. E quindi a maggior regione, come sta facendo il Parco e nel mio piccolo anche il Comune di Berceto, nel suo piccolo, cerchiamo di valorizzare i nostri prodotti tipici, i nostri ristoranti, i nostri agriturismi, le nostre trattorie che danno ancora del buon cibo e sano.